Io credo che non sia mai troppo presto per questa unione perché noi dobbiamo affrontare i problemi delle persone e affrontare i problemi delle persone non si affrontano con delle situazioni di divisione. Il nostro è proprio un impegno costante a unire, a mettere insieme perché siamo cooperatori. Siamo cooperatori perché riteniamo, siamo convinti che fare le cose insieme agli altri è molto meglio che farle da soli. Non solo è molto meglio ma si possono ottenere dei risultati sensibilmente maggiori. Questa è un po' l'esperienza che noi portiamo avanti anche sul terreno della solidarietà. Infatti noi quando parliamo di solidarietà la mettiamo insieme al concetto, immediatamente al concetto della cooperazione, del farla insieme. Non abbiamo mire di mettersi in evidenza. Noi vogliamo stare insieme agli altri, vogliamo stare all'altezza degli altri, lavorare con gli altri. Perché lavorare con gli altri significa trovare anche delle motivazioni forti. Ma le motivazioni forti non sono tanto del gruppo dirigente, della fondazione o della cooperativa, ma sono i soci che aderiscono a questa realtà, le tante persone che si mettono a disposizione in termini di volontariato. E questo è da mettersi ulteriormente in relazione con l'altro concetto di partecipazione. Perché noi non siamo una fondazione che dispone di molte risorse, dispone di poche risorse dal punto di vista finanziario. Noi facciamo affidamento invece su un'altra risorsa che riteniamo sempre più importante, che è la risorsa umana, che sono le persone. Sono coloro che stanno vicino a questa cooperativa, che ci credono in questa cooperativa, che sono disponibili a mettere insieme qualcosa di se stessi per dare una mano agli altri. Allora questo è il contributo che noi possiamo dare e che vogliamo dare. Cioè quello dei nostri soci che mettendosi insieme ai volontari, in questo caso della Caritas, riescono a dare elementi di sollievo a quelle sofferenze, a quei disagi che in questo momento affliggono una buona parte della nostra popolazione e che fanno sì che ormai anche da noi purtroppo un po' di terzo mondo ce l'abbiamo. Quindi in questo modo pensiamo poi fra l'altro di contribuire ad un obiettivo anche di carattere più generale, quello di cercare di consolidare ulteriormente quella coesione sociale che particolarmente in una fase difficile come questa, che ha alle spalle poi 20-30 anni di individualismo e di egoismo esasperato, ecco, possa riportarci un po' tutti su una strada di condivisione per cercare di superare le difficoltà che stiamo attraversando. Questa è una riflessione che abbiamo fatto anche perché su questo stimolati dai nostri soci, i quali hanno condiviso fin dall'inizio gli obiettivi di solidarietà e quindi anche gli stessi progetti a livello del terzo mondo che noi abbiamo portato avanti. Però negli ultimi tempi ci hanno sollecitato e ci hanno aiutato a capire fino in fondo che abbiamo bisogno anche qui di fare solidarietà. E quindi abbiamo spostato una parte di attività, una parte di risorse proprio nella nostra realtà, nella quale mi pare ci sia purtroppo sempre più bisogno perché ancora mi pare che il fondo non sia toccato.